Nessun mortale può fermare il tempo. Stringi solide alleanze se non vuoi soccombere in pochi istanti. Il lavoro di squadra è indispensabile per uccidere i mostri e sopravvivere il più a lungo possibile. Via! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Round 2 Grazie a tutti! 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 Arcento! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.